Come vedete i pali nel quale verranno installate le telecamere che segnaleranno alle forze dell'ordine tutti i veicoli rubati o privi di assicurazione. Queste telecamere verranno installate proprio qui a centinaio di metri dal casello autostradale di Marotta. Il progetto realizzato grazie a un finanziamento ottenuto da parte del Ministero dell'Interno prevede anche l'esecuzione di tutte le opere relative alle infrastrutture come gli scavi per l'alimentazione e l'installazione dei supporti. Nelle prossime settimane verranno poi installate materialmente le telecamere e i relativi sever per il funzionamento delle stesse e la trasmissione dei dati alle forze dell'ordine che monitorerà anche in tempo reale i punti più sensibili del territorio. Sono iniziati i lavori per otto telecamere intanto, quattro qui davanti al casello autostradale dove siamo adesso, due al confine con il comune di Senigallia che è vicino al Cesano e due telecamere di contesto per quanto riguarda la stazione ferroviaria. Ed è un progetto molto importante che abbiamo portato avanti in collaborazione con la prefettura di Pesaro Urbino, con l'arma dei carabinieri e la polizia locale. Quanto ammonta la realizzazione? Allora il progetto ammonta 90.000 euro, 60.000 euro sono i fondi delle risorse comunali, mentre 30.000 euro sono i fondi che arrivano dal Ministero dell'Interno, perché come sapete quasi tutti i comuni della provincia di Pesaro Urbino hanno partecipato al bando del Ministero dell'Interno. Il nostro comune è stato uno dei pochi comuni, uno dei quattro comuni della provincia di Pesaro Urbino ad essere finanziato, quindi un bel risultato. E' uno dei nostri punti del programma elettorale, era proprio questo, siamo a metà mandato e quindi lo portiamo avanti con impegno e determinazione. Un grazie al lavoro di squadra e un ringraziamento va in questo caso al Vice Sindaco e Assessore della Sicurezza Carlo Di Otalevi, che ha seguito dall'inizio alla fine del progetto con buonissimi risultati.